Abbiamo benvenuto a Matteo Stolfi, County Head Italy and Greece di M&G Investments, al quale vogliamo innanzitutto chiedere un po' come è iniziato questo 2019, in seconda analisi, dato che il tema principe del salone è quello della sostenibilità, come interpretate voi questa tematica? Questo 2019 è iniziato molto bene per M&G Investments, avevamo aumentato sulla maggior parte dei portafogli obbligazionari e flessibili, multi-asset, che hanno la possibilità di muoversi tra azioni e obbligazioni, avevamo aumentato molto la percentuale di azionario proprio a fine dicembre, intorno alla settimana di Natale, e quindi nei mesi di gennaio, febbraio e anche marzo la maggior parte dei nostri portafogli collocati e distribuiti in Italia sono andati molto bene con ampi rimbalzi da un punto di vista di performance che crediamo ci aiuteranno per il prosieguo dell'anno. Per quanto riguarda la seconda domanda invece relativa al tema del salone di risparmio decima edizione, quest'anno è sicuramente qualcosa di sostenibile, responsabile e inclusivo e da questo punto di vista anche la nostra gamma di offerta in Italia nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ormai da un anno e mezzo abbiamo lanciato almeno tre strategie molto interessanti, sono una obbligazionaria, una multi-asset e una azionaria, si chiamano rispettivamente Global High Yield ESG, quindi nel nome contiene proprio i temi del salone di quest'anno, in seconda battuta un MNG Sustainable Allocation che quindi fa asset allocation in modo sostenibile dedicando anche mediamente un 20% di investimenti a investimenti di tipo impatto, quindi impattare positivamente sull'ambiente e la società e infine un Global Positive Impact Fund, quindi un azionario globale anche in questo caso con forte attenzione ai temi di sostenibilità e di impatto ambientale. Grazie.